è proprio cioè il suo flow mi fa rilassare il suo flow mi fa rilassare quando uno quando c'è quando quando uno si si fanno massaggiare no ecco c'è mi sembra che mi sta già massaggiando oh 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 brah what's good isha boy rionji i'm back what's good with another reaction video if you are new to my channel you already know what i'm talking about you feel me che succede mi chiamo rionji siete benvenuti nel mio canale io vi presento un altro nuovo video si chiama da solo da già mio reagiremo a questa video qui e vediamo di che si tratta del suo nuovo video ok dobbiamo fare questo però prima di tutto dovete iscrivervi condividete iscrivetevi anche al canale principale avete capito ok senza perdere tempo buttiamoci dentro il mio mi ricordo mi ricordo ho reagito le sue canzoni non so quanti sono però mi ho reagito un po' un po' non mi ricordo quanti sono però non ho reagito mi ricordo che ho reagito quel rassismo mi ricordo quello mi ricordo quello il resto non lo so quindi andate nel playlist nel mio video iscrivetevi già a mio vedete quanti sono perchè io non mi ricordo ne ho fatto una marea di video che non non mi ricordo più niente ecco jones lasciami andare la base che il mio modo per scappare da tutto sono nato per fare nato per rappare nato per le strade dove si fa di tutto nato per mi amare nato per mio pa quindi mi ricordo a chi devo qualcosa mi castigua io jami se la prende con calma e poi quello che dice andere significa cioè proprio si dettagliati quello che dicono è la metà punti proprio no è bravo è bravo che sono qua solo perchè sperano gli do qualcosa la strada sa il mio nome mi dicono che lo che ogni volta che ci scendo mi dicono fra com'è perchè sono uguale a loro fratti spiccicato mica fra la coppia di un americano questa moda che ostenti che è tutta falsa lo capisco quando è vera la tua rivalsa capisco è vera quando è rivalsa no way mica fra la coppia di un americano questa moda che ostenti che è tutta falsa lo capisco quando è vera la tua rivalsa lo capisco che vuoi dire che ce l'hai fatta ma mica con i soldi che ti ha dato mamma hai pantaloni nuovi non hai soldi in tasca è un cervello piccolino quindi la tua mente è veramente limitata oh però eh ne hai sganciato un altro ne hai sganciato un altro questo è bello se chi è bravo se chi è bravo allora qui io vorrei capire tutto eh vorrei proprio prendermi la tua scala ok no 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 No, ok, ok. Parola santa. Questa è la parola santa, è vero. Questa è proprio un ro accepts a mangiare. E' vero, questa ero... Ha detto che fine ha fatto la Galla? Chi è Galla? Io non so neanche chi è Galla No però eh Vabbè Mara Sta facendo Stai facendo il nome delle persone che io non Non mi conosco Sì Vabbè Vabbè Si vede Si vede il suo flow Si vede il suo flow che Si vede il suo flow Sì Sì Si vede il suo flow Si vede che questo ragazzo è un buon rapper Sì Ha il flow Allora Bravo Vaffanculo Vaffanculo Come lo farebbero loro sarebbe Vaffanculo Una merda Oh Oh A chi che sta mandando tutto E sta facendo A chi che lo manda? Dio buono Oh Bro Vaffanculo 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 Fatti da solo, quindi questa da solo, fai da solo, bravo, fai da solo che è meglio, sì. Oh, oh. Sta rilasciando dei fuoco, sta buttando giù dei fuoco. Non fatemi dire parolacce, cazzo, io non voglio dire parolacce. Dio buono, eh? Madonna santa mia. Questo fai grosso, tipo fa il bullo, tanto questa base dopo non chiama più, yeah. Tu eri neri come Barack, mica faccio come la Young. Cambi colore come Michael, per due soldi di quell'altro, ma poi hai visto come l'ho ma... Già a me, Già a me è assolutamente, assolutamente bravo. Cioè, se lo senti subito te ne accorgi che è uno che sgancia flow. È un bel flow, è un bel flow. Oh, assolutamente. Sato, se vuoi posso farlo anche con te. Tu sei proprio come Michael Jackson. Mino Reni sopra il tuo Cayenne. E tu il tete che palle ho visto, ti beccano più palle. Cristo, il tuo disco che palle. Rischio che mi cada le palle fissi. Però... Sta sganciando anche delle parolacce qui, eh? Non farmi emozionare, eh? Dio buono. Sghiottorfo, raccatta a palle. Li chiedo di riportarle. Insisto, visto che non hai palle. Ne ho mille, posso prestarle. Questo dice che mi picchi, il mio amico dice che venga. Così li presentiamo qualche amico della ganga. Se davvero mi dovessi picchiare con tutti quelli che ti so, dovrei fare. Solo risavrei piena tutta l'agenda. Ecco. Ogni volta che fermo i strabiti mi viene un colpo di cuore, però la devo fare. E non rompete neanche il cazzo. Oh, damn, bro. È la miseria. Dovresti smettere la musica, mettermi a fare box. Invece caccio pezzi, nemmeno fossi un jukebox. Mi iscrivono in privato, ti metto dentro in un box. Pensano che un gioco è tutto come l'Xbox. Prima fanno strada, dopo faranno pop. Quanti che non ho visti che fanno sempre così. Fanno quelli veri che dicono io no. Ti danno un po' di soldi e gli dici io sì questo... Io vorrei sapere il vostro parere, eh. Riguardo a questo video qui, di Giammaio da solo. Lasciate un commento, tutti quanti. Lasciate un commento, dite il vostro parere. Però, senza rompere il cazzo. Senza rompere il cazzo. Ecco, ve lo dico. Il suo flow mi fa rilassare. Il suo flow mi fa rilassare. Quando uno si fa massaggiare, ecco. Mi sembra che mi stagiai, ma ti stagiai. Oh, questo è un po' di soldi. Oh, bro. Giammaio, Giammaio, non si dice così. Eh? Non si dice così, cazzo. E la miseria. Oh, sto godendo questa, eh. Non mi fa scassare. Non c'è concorrenza nel dissare. Uh. Devo farlo io, no? Sì. Qualcuno dovrà puffare il pane. Eh, sì, eh. Qualcuno dovrà puffare il pane. Lo faccio da solo. Da solo. Sono l'etichetta, sono io il contratto. Sono io da solo. Ha detto che qualcuno deve pure fare il pane. E questa, questa è bella. oh no, mi fa scossare mi fa scossare oh bro questo è Jamer da solo, official video è bravo, è bravo, senza dubbio E' bravissimo A me A me mi fa sgazare Questo è proprio Spacca da brutto Che ne pensate? Lasciate un commento Dite il vostro parere Riguardo a questo video qui Io a me personalmente Va alla grande Bella questa Assolutamente bella questa Non vi dimenticate di iscrivervi Commentate Mettere mi piace E condividete Scrivete anche nel canale principale Y'all Y'all I've been telling you I've been telling you I've been telling you Y'all should subscribe Turn on the notification bell You feel me? That's what it is That's what we are doing Right here You feel me? That's it Alright Thank you guys for watching And see you in the next video Ci vedremo Alla prossima I'm out of here I'm out of here I'm out of here I'm out of here